Tre sono le relazioni. Una, per chi crede, c'è la relazione con Dio, indispezzata, poi c'è la relazione con il prossimo e poi c'è un'altra relazione, che è quella con la natura, di cui non possiamo mai fare amico. Per chi non crede comunque a questo impegno, che è quello della relazione con il prossimo, relazione con la natura. Ed è bene vedere come la legislazione biblica, proprio, ci soffermi a proporre all'essere umano proprio diverse norme, non solo in relazione agli altri.